Ciao a tutti, oggi vi insegnerò come pulire i fiori di zucca Allora, togliamo i peduncoli dai nostri fiori di zucca e poi tagliamo in modo circolare dove finisce la parte più dura del fiore stando attento, appena appena il fiore lo dobbiamo tagliare puoi tirare il fiore per estrarre il pistillo in questo modo, ecco e procedete così per tutto il resto dei fiori, mi raccomando prima i peduncoli ok, così puoi tagliare la parte più dura in modo circolare così perché i fiori di zucca sono molto delicati tirare via il pistillo e via ok, procedete così per tutti gli altri fiori io ora andrò all'usa della luce per farvi vedere come ho fatto anche gli altri fiori ma credo che ormai abbiate capito ok dopodiché, siccome all'interno del fiore ci sono rimasti ci sono rimasti un po' di polline andiamo sotto l'acqua corrente e li sciacquiamo per bene all'interno perché non ci sono insetti anche così li appoggiamo sul nostro tagliere in piedi non ci stanno non fa niente comunque continuiamo a lavare i nostri fiori dopodiché li metteremo il cellulare li metteremo ad asciugare sul nostro scottex pronti per l'utilizzo alla prossima ciao